La prima settimana è stata estremamente positiva, anche se i primi giorni furono stati dal maltempo, basti dire che martedì nevicava. La cosa straordinaria, e lo dicono le immagini, non abbiamo mai interrotti i match, tant'è gira anche sull'ATP, su Twitter, sui vari social, il campo di Roseto innevato e i giocatori che giocavano. Questa settimana che viene sarà incredibile, perché più che 80 punti, quantomeno un 125, un 250 punti. Abbiamo 4 top 100 con Veseli che ha battuto Djokovic a Dubai, ha fatto finale a Dubai, ha rinunciato a Indian Wells per Roseto, come se si rinunciasse a una finale di Champions League per fare un... C'è Indian Wells, è il quinto slam, parliamo di eventi straordinari e quindi è bellissimo che questi giocatori vengono qui a onorare il nostro territorio. Roseto ha risposto molto molto bene. Devo dire che l'impianto sportivo era completamente pieno. Roseto è una cittadina molto piccola, sono 25 mila abitanti, lontana da Pescara, lontana nel senso che sono comunque, ahimè, con i lavori in corso dell'autostrada, 40 minuti, lontana da Teramo, lontana dall'Aquila, quindi è un successo straordinario. Io se avessimo avuto, ma con tutto il rispetto di Roseto, ma per dire lo stesso torneo a Pescara avremmo avuto 5 mila spettatori, cioè abbiamo dei numeri incredibili. Il 70 al mondo in 80 punti non va mai.